Lini, era conoscenza su questo conto? No, io cosa ho fatto, scusi? Prego? Cioè, mi ha detto che io ho un conto di bitcoin? Sì. Lini, hai fatto qualche versamento al passato, signore? No, non ho mai fatto questo versamento di bitcoin. Prego? Non ho mai fatto un versamento in bitcoin. Ha mostrato qualche parerciato su quel tipo di gomot, ciconi, copilato i dati e poi questo è stato aperto? No, probabilmente è uno scherzo che mi ha fatto qualcuno. Prego? Probabilmente è uno scherzo che mi ha fatto qualcuno, io non ho aperto nessun conto. Allora, magari, signori, li hanno senti interessi su questi link, ho compilato con i dati e poi ho compilato con i dati e poi ho stato creato. Ma, ne posso dire che, come sono accumulati questi bitcoin, c'è un modo diverso, perché la grande società di tutto valutani fa per diventare più grande, anche per per esprimere la loro influenza, hanno fatto qualche piccolo, oppure due, oppure tre operazioni per, così, per prendere anche loro la loro percentuale, anche per esprimere la loro influenza. Per questo motivo, già lei potrà avere questa somma di bitcoin. Noi, signore, lo che possiamo fare è evitarla di entrare al suo conto, che vi spieghiamo tutti in dettaglio i corsi dei suoi bitcoin, come è andato questi anni passati, che lei non è stato attivo e poi per qualsiasi domanda noi siamo qua di aiutarla e io provo di dare risposta con la massima trasparenza. Cioè, mi dica a lei se è interessato per vedere il suo conto, abbastanza a me di avere un dispositivo di accesso con interno, tutte le altre cose mi occupo io. No, beh, in questo momento non ho tempo. Se mi vuoi richiamare fra... oppure posso richiamarla io a questo numero, no? Questa è una chiamata, non vi è uscita perché siamo supporto clienti, ma mi dia lei un orario quando la posso ricontattare. Aspetti, che riguardo. Ma mi aveva già ricontattato prima lei alle 14.30, no? Alle 14.30? No, 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 dico mia... Magari, un orso, signore? No, mi richiami fra un quarto d'ora, ecco. Ok? Ok, allora, la chiamiamo pure alle 4.55 oppure alle 5.10? 5.15, ok? No, facciamo alle 5.10, ok? Ok, perfetto. Grazie. Saremo in contatto, allora la ringrazio per il suo tamburo. Sì, sentiamo, buongiorno. Grazie. Saremo in contatto, è un contatto, è un contatto bitcoin.